Signori, buongiorno. Vi seguirò in questa serie di esami. Su, 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 avanti, avanti, accomodatevi pure. Anche laggiù in fondo e sparpagliatevi per bene che di posto ce n'è in abbondanza. Mani alzate sopra la testa. Traccia tese, dita aperte, roteare le mani come per imitare il movimento dello svitamento di una lampadina. Il tempo è scaduto, consegnate pure il vostro lavoro. Ciao. Sono anche uno dell'esame. Quanto ti è risultato il problema? 24. Anche a me. Tu come ti chiami? Domenico. Un po' antico come nome. E tu? Antonietta. Adesso però devo andare. Ciao. Caso a me ci si rivede. Se si prendono a lavorare. Speriamo. Ciao. Ciao. Speriamo. Speriamo. Se prendono. Speriamo. 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 a pure life a look ahead in a clear sky ain't gonna get there but it's a nice dream it's a nice dream